bentornati ragazzi sul canale di giochi next gen e come potete vedere anche oggi c'è loredana e quindi sì ragazzi purtroppo sì anche oggi siamo tornati con la rubrica lori in game e quindi anche oggi faremo uno dei suoi soliti giochi molto molto intelligenti il primo ragazzo come la cosa che ho fatto il 13 oggi facciamo il primo ne approfittiamo per farvi l'augurio buona immacolata anche su quali anche se quando vedranno questo video sarà già il giorno 9 però vabbè visto che noi registriamo oggi che 8 quindi facciamo tantissimi auguri di buona immacolata ok ragazzi andiamo subito al gioco e poi vedranno ci si cimento appunto troppi squest la origine ma inizia ti piace non fare non gioco con te o che i ragazzi c'erano il suo vediamo un po in sopracciglia no 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 vabbè ok trova sul bottone ragazzi si inizia con i troll madonna che stupida ragazze attenzione guardate c'è la pillola blu che per chi non lo sapesse è il colore della pillola per chi vuole aumentare le proprie prestazioni a livello di gnocca quindi però in questo caso non ha funzionato anche perché vedo che non è fornito proprio perché qualche stai facendo il rosso blu ragazze fatto tipo gli occhiali in 3d madonna o qua devono al bar a pala p c'è la chiave perché spiegati che non dovrebbe prendere la chiave anziché al bagno metterla nell'occhio cioè qual è il senso di spiegatemi il senso era libero quindi spostare i tubi sposta i tubi accompagniamo il tubo si è un puzzle è facile sicuramente c'è qualche trollata ragazzi è troppo facile per essere vero ragazzi dovrebbe essere così c'è la maschera anti gas spero che non sia un altro troll vediamo ok ragazzi ecco qua fatto qui lo vogliono bruciare guardate che dei capelli che hanno ragazzi sembrano la testa di tre molla non so se ve lo ricordate da me neva che belle quelle foglie belle foglie di figo che hanno come sono sotto hanno molto da non far vedere ragazzi ecco l'ho uscito questo se qua c'è un toro voglio dire che scemenza non si sta trasformando un bellino un elefante un poco lui che giro la testa dammi questa trasforma io ragazzi che c'è bel gioco stanno i disegni che facevo quando ero piccolo ragazzi si iscriversi bai 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 bambi bai bai b seit jane fotka ma non troppo sperando Einsa buon cimcancolo Poi arrivare sulla bandierina verde? No, ti fai, c'è la tua macchina, vai, vai Stop, 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 stop Stoppati Ui, fermo, vediamo Abbiamo vinto, hai visto? Ragazzi, c'è qualcosa di elettrico che darà la scossa Vado a camminare Non oltrepassare Non oltrepassare Non oltrepassare, c'è la scossa Non oltre Ma? Vabbè Madonna mia, ragazzi, che gioco Ok, ragazzi, ho voluto evitare di prendere la scossa invece niente Ecco qui Click io, time control phase Clicca su io E non clicca Sembra che dica così Ragazzi, non so Non so che cosa io abbia fatto Però va bene Attenzione Attenzione 50 e 50 al telefono Chiama a casa Ti pronta, aiuto Eh, è pronto, sì Mamma No, ok 50 e 50 oppure win Win Ragazzi, questo non ho capito Ok, allora qui ora Attenzione Non toccare il bordo Ragazzi Se avessi trattato il primo elementare Non bisogna toccare il bordo Ma vai un po' più piano Ma si è troppo veloce Vai su finish Finish Ok, piano, non toccare il bordo Su, su, veloce Vai su finish Che abbiamo vinto No Quindi ragazzi Iniziano le prove A2 Portare una caramella su finish Attenzione, ragazzi Sì Ragazzi, ci provo io per piace Se il video ci dura fino a domani mattina Ok, appena parlato Ok, ragazzi dura fino a domani mattina È anche tu Ok, ragazzi Andiamo veloce Ho gratuito Click next level to continue Vai, Gio Ok, ragazzi abbiamo capito Comunque Proviamo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ecco qua Ok Next level E vai Ecco qua A livello completato Sposta la macchina Risposta la macchina Spara Sì, spara questo Questo, quel che sono là Spara, spara, spara No Che cosa? Un idrante? Fire, fire Quello manco Manco li distrugge No No, io No, non direi che era così Ah, ecco No, ragazzi Ma che Ma che trollata Che è successo a questo? Stanno lì Stanno lì Stanno lì Cos'è? Ma perché è sta cosa? Vai, vai, vai Fiziona Eccolo Ti ha cambiato Ah, eccolo qua Ragazzi c'era il troll Ma ormai non lo sappiamo Prova a farlo bere Un po' qui Vedi un po' che cosa Ragazzi sembra proprio lei quando beve È uguale Il possibile Adesso è la stessa Aiuto 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 La gabbina Ragazzi non ha paura Vediamo questo bottone Ecco Vabbè ragazzi Io non c'ho capito Ok ragazzi Trova 10 trofei 10 secondi Ritrone 10 10 10 secondi Ragazzi 1, 2, 3, 4, 5 È venuto in dubbio Ragazzi non vorrei Che fosse così Perché sarebbe Stupido Era così Vabbè ragazzi Io non ci piace È proprio stupido Ragazzi è proprio stupido Jump salta Salta Vabbè Così è salta Salta Ah vedi Non è uscito E' uscito E' uscito fuori dal quadrato Sì Dico Ricordiamoci 1 2 3 4 4 Aspetta Clicca su di lui Va Vabbè ragazzi Inuncio a capirlo Veramente su questo gioco Vado in sopracciglia Clicca sui cavi Stavolta Dovrebbe essere giusto Vediamo Sì Clicca sul bottone Per accendere Ok Eccolo No Ti muovo No Basta Basta No Infatti Vattene 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 È finito ragazzi È finito Finalmente Grazie di oggi È peccato ragazzi È già finito Mi dispiace tantissimo Ragazzi di già Maledizione Dai L'altro dolfetto Speriamo di no Ricorderanno loro Se tu vi continui da o no Ragazzi se Vi è piaciuto Se vi piace la serie Trofei Mettete i like Iscrivetevi al canale Giochi Next Gen Bravo Condividete il video Commentatelo Mettete i like Se volete che portiamo Trofei Quest 2 Tutta la serie dei troll Ragazzi vi sparmiate Mi vi prego Con questo è tutto Un saluto da AngeloNero83 Lory È da Loredana Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao